Quando camminiamo, quando corriamo, quando gattoniamo, quando viviamo, mettiamo in atto una serie di schemi posturali, biomeccanici, fisiologici, che sono caratteristici ma di quel movimento. Nello specifico chiamiamo in causa la catena crociata. La catena crociata vuole che ci sia una correlazione, un comportamento abbinato fra l'arto inferiore e l'arto superiore opposto, sia quando c'è l'avvicinamento fra gamba e braccio opposto, sia quando c'è l'allontanamento. Quindi è sempre lo schema della catena crociata. Con questo video io ti do tre semplici esercizi in cui tu vai ad individuare qual è la gamba che, nello schema di srotolamento, quindi nello schema di apertura, di estensione, è quella un pochino più inficiata, quella un pochino più pregiudicata. È ovvio che nel tuo corpo ci sono vari schemi che predominano, altri che sono sottodominanti, quindi bisognerebbe vedere tantissime cose. Per cui andremo prima ad individuare qual è la gamba che tende ad allungarsi con più difficoltà, poi a quella gamba, in realtà se è gamba e anche bacino è zona lombosacrale, quindi quella gamba che tende a spingere un pochino di meno, a quella gamba abbineremo il braccio opposto e poi abbineremo braccio opposto gamba in sollevamento e in chiusura posteriore, quindi in apertura di estensione. Saranno tutti esercizi a pancia sotto. Quando si lavora da proni bisogna stare attenti perché se ci distraiamo quando siamo a pancia in su, poco danno, poco male. Se ci distraiamo a pancia in giù rischiamo di fare danno a livello lombare. Quindi le regole sono fondamentali. La prima è tenere sempre la pancia in dentro indipendentemente dalla mole, indipendentemente dall'addominale. Io costantemente vorrò tenere un pochino l'addominale in dentro, l'ombelico in dentro, che non significa contrarre i glutei e le cosce come ti dirò dopo, ma significa tenere l'ombelico in dentro per proteggere la schiena. Le spalle andranno indietro e sarà una posizione ortomorfica, se vogliamo, l'uomo vetruviano con un pochino più le mani vicino al corpo, a pancia sotto. Da lì noi costruiremo il nostro schema crociato a pancia sotto, braccio e gamba opposta, ma prima di tutto individuiamo la gamba. Partiamo dalla gamba perché qualcuno potrebbe dire perché non abbiamo individuato prima il braccio e poi la gamba. Partiamo dalla gamba perché è quella che ha il contatto con il pavimento, che ha il contatto con il mondo ed è quella che ha subito una risposta. Ci sarebbe da dire altro. Io ti dico che questi tre esercizi sono molto utili per farti capire delle cose. Ripeto, ci sono altri schemi che predominano in te, ma questo è uno dei fondamentali. Ti invito a fare questi tre esercizi. Io faccio tre, quattro ripetizioni per mostrarti il tutto. Tu cerca di fare almeno due serie per venti ripetizioni e di tenere magari l'ultima ripetizione per tenerla per una trentina di secondi. Apparò da questi tre esercizi quando hai già fatto altro. Una volta che hai fatto questi tre esercizi puoi ritornare magari ad un allungamento classico pancia in su e con le gambe distese, quindi una cosa classica normale, per scaricare la tua schiena zona lombare che magari non è abituata a fare estensione. Ma siccome ho parlato tanto ed è più lunga la parte parlata che la parte degli esercizi, io ti auguro un buon allenamento e ci vediamo fra un secondo sul tappetino. Ci posizioniamo a pancia sotto con i piedi larghi quanto le spalle, con la punta del piede allineata con il tallone. Solitamente mettiamo il tallone verso l'esterno, invece questa volta tallone e punta allineati. Quindi incrociamo le braccia, le posizioniamo qui sotto la fronte e a pancia sotto rispettiamo due regole fondamentali. Uno, il tirare l'ombelico verso il soffitto, quindi c'è una leggera tenuta addominale. Due, non si contraggono i glutei, le gambe, chiaramente tranne quando faremo l'esercizio, ma l'ombelico deve riuscire ad andare al soffitto o quantomeno a provarci senza nessun'altra contrazione muscolare. Per il resto è tutto libero. Tiriamo le spalle indietro, rilassiamo completamente il collo, la testa nelle nostre mani e per qualche secondo respiriamo solamente. Cercando di sentire l'unica zona che lavora è la parte ombelicale, con l'ombelico un pochino intenuta. Rilassa i glutei perché sicuramente tenderai un pochino a contrarli. Da questa posizione comincio a fare delle spinte. Spinte significa che dal bacino, attraverso l'anca, la gamba, avviene un allungamento di una gamba per volta, senza piegare l'altra e senza contrarre il resto del corpo, sempre con l'ombelico sollevato. Le prime ripetizioni ci servono per scoprire qual è la gamba che si allunga meno facilmente. C'è un arto inferiore che si allunga con più difficoltà, questo può dipendere dal bacino, può dipendere dall'anca, può dipendere dalla zona lombosacrale, un pochino anche dall'arto inferiore in toto. Una volta che l'abbiamo individuato, lasciamo in spinta quella gamba che abbiamo individuato e portiamo il braccio opposto, la mia e la gamba destra, porto il braccio opposto, il sinistro, in allungamento. Sempre il testo del corpo rimane rilassato, sempre l'ombelico al soffitto. Da questo momento in poi spingo gamba che ho individuato e braccio fuori l'aria, quindi si allungano i due estremi di un'ipotetica X e lascio in spiro. Fuori l'aria spingo la gamba, spingo il braccio opposto e ritorno in spiro. Fuori l'aria spingo la gamba, l'arto inferiore, il bacino, spingo il braccio opposto con la mano di taglio, il resto è tutto rilassato e lascio in spiro. Fuori l'aria spingo la gamba, spingo il braccio opposto ad allungarsi e lascio in spiro. Se riesci a farlo in maniera impeccabile ti accorgerai che i muscoli delle cosce continuano a rimanere rilassati. Un pochino di tensione ma comunque sono rilassati. Fuori l'aria e lascio in spiro, fuori l'aria mantengo la spinta di braccio gamba opposta, il resto del corpo è tutto rilassato, lavoro sulla consapevolezza, lavoro sul respiro e cerco di allungare sempre di più braccio e gamba opposta tirando l'ombelico al soffetto. Secondo esercizio, identico al precedente, con una piccola componente, cioè tenderò prima a spingere il braccio, a spingere la gamba opposta e poi a sollevare anche di un millimetro entrambi. Siamo in questa posizione, in spiro, spingo gamba, spingo braccio e provo a sollevarli un millimetro, non contrarre gli altri muscoli e lascio scendo, in spiro. Uno, fuori l'aria, spingo gamba, spingo braccio opposto, tesissimo il gomito, tesissimo il ginocchio, punta del piede in flessione plantare, l'ombelico rimane sollevato, il fianco della gamba sollevata rimane bene a terra e ritorno giù in spiro. Fuori l'aria, spingo gamba, braccio opposto e ritorno giù e lascio. Inspiro, fuori l'aria, spingo braccio, gamba opposta e lascio l'ultimo. Inspiro, fuori l'aria, spingo gamba, braccio opposto e lascio. Terzo esercizio, la versione ancora più avanzata della seconda, quindi delle prime due. Braccio e gamba, sempre la stessa. Inspiro, spingo braccio, spingo gamba, li sollevo. Ora è ovvio che sono contratti, in realtà sono contratti già dall'esercizio precedente perché per sollevare braccio e gamba contraggono i muscoli. Due, provo a prendere il piede con la mano e a tirarlo un pochino verso il gluteo con il ginocchio che si solleva, ma non si solleva il fianco, si solleva solo un pochino il ginocchio. Sento tirare la coscia fino all'attaccatura dell'anca, l'ombelico è sempre sollevato, uno, lascio, due, ritorno giù, rilasso, in, spiro. Uno, fuori l'aria, spingo, due, sollevo, tre, piego, quattro, porto al gluteo, cinque, sollevo. Spingo il ginocchio in alto, pancia in dentro. Uno, rilasso, due, riporto al loro posto, tre, scendo. Fai attenzione a non contrarre altro se nonché i muscoli coinvolti. Uno, spingo braccio e gamba, due, li sollevo, tre, piego, quattro, aggrappo, cinque, traziono. Occhio a non portare troppo l'anca verso l'esterno, eh. Mantieni sempre il ginocchio qui. E ritorno. E lascio. L'ultimo ispiro. Uno, fuori l'aria, spingo braccio e gamba, due, sollevo, controllo il resto che rimane rilassato, tre, porto dietro, quattro. Tiro il gluteo, tiro anzi il tallone verso il gluteo. Avvicino un pochino il ginocchio al centro. Non stacco il fianco della gamba sollevata perché tenderai a staccarlo a livello di anca. Ora, respira in profondità e lascia e giù. Erano tre esercizi molto 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 carini che migliorano nettamente la tua consapevolezza e percezione del passo della corsa, quindi lo schema della camminata, se vogliamo anche lo schema della gattonata, quindi gamba e braccio opposto. Io ti ringrazio per essere stato o stata con me. Se il video ti è piaciuto iscriviti al mio canale, condividi questo video sui tuoi social preferiti, lasciami un like, un commento e ci vediamo al prossimo workout micro.